Ho un messaggio molto importante, forza Napoli! Napoli è una delle città più belle del mondo, è ovvio, abbiamo parlato di questo, e con un gran sindaco siamo molto simpatici, ma veramente, voglio dire a tutti noi portani che questa città è meravigliosa, sì ci sono problemi, ma la bellezza, la creatività, l'energia, la passione, non c'è paragone nel mondo, noi abbiamo problemi esattamente come Napoli in molti modi, traffico, come si dice, spazzatura, gran problema a New York, veramente, sono aperto, trasporti, sì, molto difficile, tutto questo è difficile avere una grande città. In inglese c'è una frase, it's our time, ho bisogno di un po' di aiuto, il nostro tempo, ok, io dico per Napoli, questa frase è importante, dopo questo scudetto tutto è possibile, veramente, tutte le persone, veramente, nel mondo c'è un gran rispetto per Napoli, che è cresciuto prima, ma a questo punto più forte, più forte, allora, io credo che per i napoletani è importante ricordare questo momento, l'importanza, il potere di questo momento, è dire, come si dice, it's our time? è il nostro tempo, è il nostro tempo, è il nostro tempo, è il nostro tempo, perché è per creare energie, creare un'opportunità ad avanzare, ci sarà un grande feste, anche a New York, domenica, i napoletani di New York, gli italo-americani, per noi è un momento grandissimo. Il futbol americano è un sport di molti, il futbol è l'evento più grande, ma non c'è il sentimento culturale, come qua con il calcio, è molto più grande qua, per esempio queste celebrazioni di settimane, settimane, colori, bianco, azuro, tutta la città, no, dopo un superbol, questo non esiste, questa è una celebrazione più grande che ogni negli Stati Un fonte di orgoglio per Natale, un grande orgoglio per Natale.